Ciao, eccoci di nuovo nella rubrica dedicata al mondo dei drama. Oggi affronteremo un argomento molto particolare perché andremo a toccare quel lato dei drama, che io voglio chiamare il lato oscuro, che una volta che ti prende ti trascina nel suo vortice e non ti lascia andare mai più. Sto parlando dei drama BL, ossia Boys Love. Se vogliamo dirlo in modo un po' più così, diciamo, le storie d'amore omosessuali. Una volta che si entra nel mondo dei drama, si inizia di solito con i drama etero, però poi arriva un momento in cui tramite un post su Facebook, un TikTok, in un modo molto casuale, spunta davanti a noi la parola BL. Ed è così che spinti un po' dalla curiosità, cominciamo a guardare uno di questi drama e scoprirete così un nuovo mondo. I drama BL sono di tante nazionalità. Abbiamo i drama BL, quindi Boys Love giapponesi, coreani, tailandesi, taiwanesi. Gli unici che purtroppo mi tocca escludere sono i cinesi. Perché devo escludere i cinesi. Perché purtroppo le loro leggi sono molto ferree per quanto riguarda contenuti omosessuali. Quindi tutto ciò che ha a che fare con l'omosessualità è vietata nei media. Nei prossimi video andrò a parlare magari di alcuni BL cinesi che sono stati trasformati in realtà in Bromas. Ma non voglio approfondire adesso questo argomento perché dedicherò un video tutto per loro. L'industria dei BL sta prendendo sempre più piede e il paese che ne produce di più in assoluto è la Thailandia, che ne sforna un centinaio all'anno. I BL tailandesi sono quelli un po' più spinti, dove vediamo un po' più di scene fisiche. Però vi assicuro che dietro ci sono delle storie veramente meravigliose. Perché il modo in cui questi drama raccontano l'amore tra due maschi è veramente emozionantissimo. Da pelle d'oca, cioè da batticuore e farfalle nello stomaco che veramente sono inspiegabili. Dopo i tailandesi abbiamo anche appunto giapponesi e coreani e anche taiwanesi che fanno molti BL. Sono un po' più brevi perché di solito si aggirano tra gli 8 e 10 episodi da neanche mezz'ora, ma con delle storie veramente bellissime, concentrate e emozionanti che veramente ne esci super soddisfatto. Io sono entrata nel mondo dei BL casualmente dopo qualche mese dall'inizio della mia carriera drammatica, diciamo. E il primo drama in assoluto che ho visto, che è quello che diciamo un po' tutti consigliano per iniziarsi a questo mondo, è Tarn Type. Tarn Type è un grande classico dei drama BL. Molti, molte di noi sono entrate in questo mondo grazie a questo drama qui. Ed è la classica storia di due ragazzi proprio opposti dal punto di vista caratteriale che in un modo molto interessante finiscono con l'innamorarsi. Ma è una storia veramente molto carina. In questo momento se dovesse qualcuno chiedermi da che drama potrei cominciare nel mondo dei BL non sarebbe Tarn Type il mio consiglio, ma ce ne sono altri ancora più belli. In caso Tarn Type lo potete trovare comunque su Viki, se vi ho incuriosito. In questo momento il mio drama BL preferito in assoluto, che finora niente e nessuno è riuscito a scavalcare, si intitola I Told Sunset About You, che insieme al suo seguito I promised you the moon, veramente rappresentano per me l'olimpo dei BL. È un drama veramente meraviglioso. Si provano delle farfalle nello stomaco potentissime. È una storia d'amore tra due amici di infanzia che si separano per un lungo periodo per poi ritrovarsi casualmente a pochi mesi dall'entrata all'università. È una storia veramente da brividi perché fa provare delle emozioni fortissime ed è questo il drama che io consiglio a chiunque mi chieda con quale drama posso cominciare ad entrare in questo mondo. Io vi risponderei I Told Sunset About You, che potete trovare su Viki e anche sulle H, KC e BL Asia, che si trovano sul rama oriental. Comunque il mondo dei drama BL è veramente vastissimo. Altri titoli che potrei consigliarvi sono Kim Porsche, anche questo che è stato uno dei drama BL più acclamati in assoluto, con protagonisti due bellissimi ragazzi tailandesi che sono Apo e Mile. Qui abbiamo una storia completamente diversa perché abbiamo un boss mafioso che assume questo ragazzo come guardia del corpo per poi finire con l'innamorarsene e questo è uno dei drama BL più spinti che ci sono. Bellissimo! Kim Porsche è disponibile un po' su tutti i fansub dedicati appunto ai drama BL e a proposito i fansub dove trovare i drama BL sono veramente tanti. Ci sono appunto le ragazze dell'HKC e BL Asia che si trovano sul forum di Rama Oriental, c'è il blog My BL Love, ci sono le Moon and Stars fansub, le Clam Subita, insomma ci sono veramente tante piattaforme dove trovare tutti questi drama BL. Per quanto riguarda i drama BL coreani il mio preferito in assoluto e penso che molte e molti saranno d'accordo con me è Semantic Horror, uno del BL coreano più bello in assoluto, con due protagonisti bellissimi perché c'è Park Seo-ham e Park Jae-chan che è un membro dei Don Kids. Una storia d'amore ambientata in ambiente universitario tra due ragazzi veramente opposti per poi sbocciare in quest'amore bellissimo. Dopo Semantic Horror un altro BL coreano che mi è piaciuto moltissimo è To My Star che è stato diviso in due stagioni, To My Star 1 e 2. Anche questa è una storia d'amore molto particolare tra un ragazzo famoso che recita nel mondo, che lavora nel mondo della recitazione e questo ragazzo che lavora come chef in un ristorante, anche qua abbiamo due caratteri molto opposti che finiscono con l'innamorarsi. Per quanto riguarda invece i drama BL giapponesi dire qual è il mio preferito è davvero difficile perché veramente sono uno più bello dell'altro, cioè sforrano di quelle storie. Poi i giapponesi hanno un modo molto molto diverso, particolare e profondo di raccontare diversi temi, hanno una delicatezza e veramente sono spettacolari come raccontano soprattutto queste storie BL. Se devo scegliere un BL giapponese da consigliare a chi è ancora profano di questo mondo mi sento di dire My Beautiful Man, penso che sia il più bello, profondo ed emozionante in assoluto. Racconta la storia divisa tra due punti di vista diversi, prima di un protagonista e poi dell'altro, di questi due ragazzi che vanno a scuola insieme dove uno è impacciato, timido, balbettante, mentre l'altro viene definito il dio della scuola e si vedono questi due ragazzi molto diversi che in realtà hanno in comune l'attrazione uno per l'altro. Da poco è uscita anche la seconda stagione e veramente secondo me questo è il BL giapponese numero uno. Per quanto riguarda i BL giapponesi potrei dirvi tanti altri titoli come Eternal Yesterday oppure Jack Frost che è uno degli ultimi ma veramente ce ne sono talmente tanti e bellissimi che dirli tutti è impossibile. Per quanto riguarda invece i BL taiwinesi penso che potrei consigliarvi My Tooth Your Love che è una storia d'amore tra un paziente e un dentista molto molto carina. Comunque diciamo che il catalogo più ampio di drama BL ce l'ha la Thailandia dove potrei dirvi anche Love Is In The Air, Love Mechanics e tanti 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 altri. Veramente una volta che entrate in questo mondo qui scoprirete un catalogo di queste storie veramente infinito. Ovviamente consigliarveli tutti in un solo video è praticamente impossibile però io rimango sempre a disposizione sui miei canali social quindi Instagram e TikTok per darvi tutte le risposte di cui avete bisogno e tutti i consigli che volete. Io spero comunque di avervi incuriosito. Nel prossimo video che farò parleremo di un drama cinese Bromas molto particolare e sarà tutto dedicato a questo. Detto ciò vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!